Una storia antica conosciuta in tutto il mondo che è alla base del credo di milioni di persone. La storia di Gesù e della sua vita riviverà grazie allo spettacolo Il Messia che debutterà domenica 16 settembre alle ore 21 all'Anfiteatro San Pietro. Un musical coinvolgente, ricco di pathos, scritto da Daniele Ricci e diretto da Francesco Migeli che ne ha curato anche la regia. A firmare le coreografie Francesca Gallina, musiche di Daniele Ricci e Greg Puccio, il disegno Luci e di Marco Cammarata. L'ingresso è gratuito. È un musical straordinario, scritto da Daniele Ricci ed è un immenso piacere per me portarlo in scena. È uno dei primi spettacoli che realizzo a non aver direttamente scritto io. Ma l'ho voluto fortemente realizzare proprio perché è straordinario nelle sue musiche, nelle sue atmosfere, nel suo nuovo modo di raccontare questa antica storia. Una regia che attrattia rapidi flash di stampo cinematografico e che rivive proprio attraverso quadri ben precisi che sembrano proprio riaffiorare dai grandi dipinti del Caravaggio e del Rubens. E proprio all'interno di questa atmosfera, con questi cambiocolori, con questi continui cambi d'abito, c'è un ritmo davvero incalzante che fa emozionare. Un grazie certamente a chi mi sta collaborando, a questi giovani della parrocchia San Pietro, ma anche il gruppo teatrale Metanoeite, la scuola di danza Scarpette Rosse, tutte le maestranze che si sono prestate a realizzare questo spettacolo, che trova proprio nella sinergia il proprio punto vincente. Francesca Gallina per le coreografie, la partecipazione speciale del grande Giorgio Villa nel ruolo di Nicodemo faranno certamente di questo spettacolo un evento teatrale importante. Tra i protagonisti Simone Polidoro, Neppanni di Gesù, Ilenia Giammusso che interpreterà Maria, Ivano Cereda, Il Male, Giuseppe Gloria, Il Battista e molti nomi del panorama musicale e teatrale nisseno. Sarò Giovanni Battista un personaggio anche molto complesso, un po' viene definito come il folle che comunque gridava alle folle che sarebbe arrivato l'atteso, il regno dei cieli. E un po' mi rappresenta perché anch'io ho un po' di quella follia e lo vedrete anche sul palco. Che emozione si prova? Allora, una grandissima emozione, anche perché andare a interpretare questo ruolo che è stato di Andrea Casali, che è la voce originale, è una grande responsabilità e spero di poterne essere all'altezza. È un ruolo un po' difficile da interpretare perché comunque bisogna sempre entrare nel personaggio, cercare di interpretare al meglio il ruolo, però con l'aiuto di Francesco, la passione che mette nel suo lavoro, viene tutto molto più semplice. Come hai preso questa notizia quando ti hanno detto che avresti appunto interpretato questo ruolo particolare? Diciamo che al momento sono un po' rimasta, ho detto sarò in grado di interpretare un ruolo così importante, poi io mi fido profondamente di Francesco, quindi ho detto va bene.